Buongiorno a tutti, vi faccio vedere la posizione presa pochi minuti fa sul DAX siamo comunque a 10 del mattino, vediamo se questa posizione arriverà a target oppure se la chiudiamo prima della chiusura, anche perché oggi ho altre cose da fare quindi vediamo di portare a casa comunque un buon risultato e poi se nasceranno opportunità farò trading anche oggi pomeriggio ecco qua direi che possiamo chiudere, 1000€ di profitto nella giornata di oggi questo è grazie alle strategie Volumaster in Intraday ma ripeto sempre si possono applicare anche nel Multiday qui vediamo il consuntivo, in sostanza c'è una sola operazione e se vuoi fare anche tua stessa cosa ti invito a iscriverti al prossimo Volumaster cliccando il link in descrizione a presto